Avvocato civilista, cassanese da quasi 40 anni, impegnata nel sociale, in campo contro la violenza, siede nella cabina regia del Giro d'Italia Handbike. Stefania Passiu si candida sindaco a Cassano Magnago, città che vorrebbe risvegliare dal torpore che la affligge. Vorrei che questa città riacquistasse, riacquisisse una propria identità culturale e che non fosse più la periferia di Gallarate o di Busto, ma che avesse appunto una sua identità. Una volta eletta, comincerebbe a occuparsi di interventi piccoli, quanto necessari. Ci sono esigenze concrete, anche molto semplici, quindi sistemazione delle strade, illuminazione, anche in termini di sicurezza, lavori che sono necessari per affrontare il rischio idrogeologico, manutenzione dei parchi, strade, marciapiedi, cestini, piuttosto che altri interventi ordinari, diciamo così. Occhio di riguardo alla cultura e alle fragilità, a massima attenzione al tema della violenza di genere e ai concittadini più vulnerabili. Vorremmo aprire uno sportello antiviolenza per le donne vittime di violenza, vorremmo affrontare il tema della disabilità, vorremmo lavorare per una città che sia davvero inclusiva e a misura di ciascuno. All'orizzonte l'apertura di una banca del tempo per i nonni cassanesi, che faccia da serbatoio di energia e attenzioni. Dove le persone possono mettere a disposizione un po' del loro tempo, proprio a favore degli anziani, magari organizzata e gestita dai giovani con gli strumenti digitali, sui quali loro hanno grandi competenze. Questo servirebbe anche a creare un'interazione tra le generazioni che è sicuramente virtuosa. Sul fronte commerciale stop ai supermercati e manotesa a negozi e botteghe. Per esempio creando un polo fieristico nell'area feste di Cassano, destinato e dedicato proprio ai commercianti locali, agli artigiani e ai produttori locali. Grazie. Grazie.